Benvenuti a Ballando con le stelle, dove il calore delle danze è spesso accompagnato da scintille di controversia. Nell'ultima puntata, Simona Izzo e Selvaggia Lucarelli hanno dato vita a un confronto acceso e appassionato. La scintilla è scoccata quando Ricky Tognazzi appena entrato si è diretto verso Simona dimenticandosi completamente della gara durante la sua esibizione. Ma perché Selvaggia si è scagliata contro Simona? Scopriamolo assieme, ma prima metti un like al video ed iscriviti al canale Gossip Secrets. Tutto è iniziato quando Ricky Tognazzi ha consegnato dei fiori alla sua moglie, Simona Izzo, in onore del suo onomastico. Ma questo gesto ha fatto scoppiare una polemica inaspettata. Selvaggia Lucarelli, giurata del programma, ha reagito con fermezza. Il concorrente è lui, non puoi venire qui e fare gli auguri a Simona. La tensione è montata quando Simona ha risposto con sicurezza. Il concorrente è lui, ma ci sono anch'io. La discussione è diventata ancora più accesa quando Selvaggia ha sottolineato che Simona potrebbe oscurare Ricky. E questo ha fatto arrabbiare non solo lei ma anche Fabio Canino. Secondo voi Selvaggia ha avuto ragione ad intervenire nella situazione? La giurata Selvaggia Lucarelli ha sottolineato il rischio di Simona che oscura il marito Ricky con la sua personalità dominante. Tuttavia, Ricky ha cercato di minimizzare la situazione, dichiarando di vedere la cosa in modo giocoso. Simona, però, non ha lasciato la questione cadere e ha ribattuto con una serie di dichiarazioni taglienti. Selvaggia Lucarelli, come al solito è carica e tagliente. Ma Simona Itzo non le manda certo a dire. Sono due personalità molto forti che accenderanno ancora il pubblico. Ricky Tognazzi, beh lui è al momento non pervenuto.